Continua la campagna di sensibilizzazione messa in atto dall'Associazione Diabete 3. Stamattina la Presidente Glenda Paci ha incontrato gli studenti dell'Istituto Comprensivo Gela Butera per spiegare loro cosa effettivamente sia il diabete che a Gela ha riscontri altissimi anche nella fascia di età scolare. In modo semplice, utilizzando dei palloncini colorati, i bambini hanno capito quando sia importante il valore della glicemia. Abbiamo simulato una situazione di equilibrio grazie ad un palloncino e faremo fare delle attività ai bambini come mangiare delle patatine o fare dell'attività fisica e tenere sempre in equilibrio questo palloncino che sarà ovviamente la glicemia. Quindi i bambini potranno effettivamente vedere che cosa cambia all'interno del loro corpo quando mangiano? Sì, perché devono tenere, ripeto, grazie a questo palloncino sempre la glicemia in equilibrio. Oggi c'è questa signora qua, c'è questa ragazza, Glenda, che vi sta spiegando cosa è il diabete, giusto? Sì. Ti sta piacendo questa lezione? Molto. Tu lo sai che si deve stare attenti a quello che si mangia? Sì. Oggi cosa vi sta spiegando, Glenda? Lì è il diabete. Ti piace fare questo tipo di lezione? Sì. Perché? Perché a me mi piace. E perché? Perché è un spettacolo. Allora, tu conosci qualcuno che ha il diabete? Sì. E chi è? Gloria. Ma cosa succede quando la glicemia di Gloria va un po' a spasso? Suona. Suona il sensore. E voi cosa fate in classe? L'aiutate? Sì. Il dirigente Rocco Traimiti ha accolto l'iniziativa dell'associazione, soprattutto perché all'interno dell'istituto ci sono diversi bambini che convivono con questa malattia. Abbiamo promosso questa iniziativa proprio per dare un segnale di sensibilizzazione al personale e agli alunni su questa tematica del diabete tipo 1 e tipo 2. Noi abbiamo anche dei ragazzini coinvolti in queste problematiche e nei vari ordini di scuola. Ed è stato con piacere anche dare un sostegno e anche delle indicazioni operative per affrontare queste situazioni particolari per i nostri piccoli bambini. Quest'anno, devo essere sincera, io e le mie colleghe siamo state colte di sorpresa dall'avere questa bambina affettata di diabete tipo T1 e quindi sia la bambina, i genitori molto premurosi e anche i compagnetti di scuola, già loro sono un supporto per la bambina. Quando suona il telefono perché è collegata alla sua macchinetta, loro stessi hanno imparato quello che dico io. Scusa Gloria, quando è la glicemia? La malattia viene così sdoganata. Esattamente, allora il fatto stesso che la bambina in classe faccia motoria, faccia attività, mangia tutto quello che vuole dato che l'insulina o qualche altro farmaco le permette di poter svolgere una vita normale, quindi non è più una malattia.